Allora come al solito vi invito a dare un'occhiata al link che trovate in descrizione che vi riporta al sito www.pampling.com dove trovate un sacco di magliette, felpe, scarpe, zaini come per smartphone, stampe e che più rapida metta tutto rigorosamente a tema nerd come la maglietta che indosso che è uno spettacolo se vi interessa trovate il link per acquistarlo in descrizione se volete vedere questi prodotti con il 20% di sconto utilizzato per si acquista il codice sconto VLASLO per acquisti inferiore ai 50€ oppure il codice POWER25 che vi dà il 25% di sconto ma solo per acquisti superiori ai 50€ detto questo vanno a recenzi e iniziamo subito con la recensione di oggi SIGRA Allora nelle ultime settimane più ci si addentrava nella stagione dei premi con gli Oscar incombenti che peraltro saranno nella notte tra il 9 e il 10 di febbraio e come sempre ormai è una tradizione ci sarà la live qui sul canale per seguirli tutti insieme con un sacco di ospiti più si parlava di un film in particolare che io non vedevo l'ora di guardare sono riuscito a vederlo in anteprima settimana scorsa e mi riferisco a una pelicola 19 per la legge di Sam Mendes ed è 1917 avevo ormai una curiosità morbosa nei confronti di questo film soprattutto perché è girato con un unico piano sequenza quando nei giorni scorsi ne ho parlato sui miei spazi social io ho utilizzato il termine piano sequenza senza spiegarlo perché ero convinto che un po' tutti sapessero il suo significato invece in tanti mi hanno chiesto cosa sia un piano sequenza semplificandone la definizione è diciamo una spiegazione molto terra terra un piano sequenza è una scena ottenuta utilizzando una sola inquadratura senza tagli ok ovviamente non si tratta di un vero piano sequenza ma di un piano sequenza artefatto il che significa che Sam Mendes non ha effettivamente girato il film senza mai operare tagli ma ha girato il film utilizzando lunghi piani sequenza che sono stati poi uniti in fase di montaggio ma i tagli sono invisibili in realtà se uno ci fa attenzione ed è abituato ad analizzare un film inquadratura per inquadratura riesce a capire perfettamente quali siano i momenti in cui sono stati operati i tagli io non penso di averli individuati tutti ma alcuni assolutamente sì quantomeno quelli più evidenti momenti in cui magari la macchina da presa entra in una zona d'ombra dove per qualche secondo l'inquadratura diventa totalmente buia ecco lì c'è il taglio oppure quando passano sotto un'architrave e sopraggiunge la penombra quando magari i personaggi passano dietro ad una tenda ad esempio e la cosa sinceramente mi faceva venire una gran voglia di guardare il film perché un'altra pellicola che ha utilizzato questa tecnica in tempi recenti era Birdman di Alejandro González in Arritu ma a mio modesto parere era molto più difficile questa operazione per un film ambientato durante la prima guerra mondiale perché Birdman aveva una regia sicuramente dinamica ma non quanto quella di 1917 il regista Sam Mendes non è propriamente un novizio per quanto riguarda l'utilizzo del piano sequenza perché già se non sbaglio in Skyfall in apertura c'era una scena che era tutta girata in piano sequenza e anche lì non era stato semplice realizzarla anche perché molti potrebbero pensare che non sia un'operazione così difficile montare un film di questo tipo in realtà soprattutto per questo film non è stato semplice perché il montatore Lee Smith ha dovuto calcolare i tempi alla perfezione perché se qualcosa fosse andato storto non ci sarebbe stato alcun modo di riparare all'errore in fase di post-produzione quindi ha dovuto seguire il film passo passo assicurarsi che le scene di raccordo fossero calcolate al millimetro e infatti sono rimasto davvero stupito nel non vedere tra le dieci candidature che il 1917 ha ricevuto agli Oscar ormai imminenti anche quella al miglior montaggio perché il montaggio di un film del genere paradossalmente è fondamentale e mi è anche un po' dispiaciuto perché stiamo parlando del montatore vincitore del premio Oscar per Dunkirk di Christopher Nolan peraltro 1917 è stato paragonato in più sedi proprio a Dunkirk secondo me sono due film profondamente diversi sia perché non basta il fatto che siano due war movie ad accomunarli sotto molti punti di vista sia perché tra l'altro stiamo parlando di due guerre completamente diverse la seconda guerra mondiale non c'entra assolutamente nulla con la prima perché la prima guerra mondiale era una guerra di stazionamento di logoramento la guerra di trincea ed è proprio per questo che 1917 mi è piaciuto da morire perché io sono sempre stato affascinato dalla prima guerra mondiale come periodo storico e speravo che il film di Mendes riuscisse a trasmettermi la difficoltà che dovevano affrontare i soldati nel rimanere immersi nel fango per giorni con la paura che il nemico avanzasse era una guerra in cui si combatteva per conquistare anche solo mezzo metro di terreno nei confronti dell'avversario stiamo parlando di un conflitto che ha realmente logorato l'anima dell'umanità per anni non che la seconda guerra mondiale non l'abbia fatto ma era proprio una concezione di guerra completamente differente e lo dico per quanto io creda che Dunkirk sia un film estremamente ben fatto a me è piaciuto di più questo con tutto che sono due film differenti ma se dovessimo semplicemente inserirli nel macro filone dei war movie come film di guerra ho preferito questo per vari motivi e sinceramente sono rimasto davvero colpito dal modo in cui Sam Mendes sia riuscito a dirigere un film del genere utilizzando questo finto piano sequenza con la macchina della presa che non staccava mai e che ti portava come spettatore di fianco ai protagonisti eri in guerra con loro eri in trincea con loro soffrivi strisciavi nel fango ti aprivi la mano con il filo spinato è stata un'esperienza incredibile molti mi hanno chiesto quindi adesso che l'hai visto credi che 1917 vincerà l'Oscar come miglior film onestamente non lo so perché in tanti pur non avendo visto il film ho notato che sui miei spazi hanno scritto cose come sì ma vorrei vedere se questo film sarebbe stato candidato a tutti questi Oscar se non avesse avuto la trovata del piano sequenza artefatto a parte il fatto che la risposta è ok ma il piano sequenza artefatto c'è sì quindi con i secoli ma la storia non si fa però il punto è che secondo me è un ottimo film proprio in sé la storia è molto semplice ma è anche estremamente entusiasmante io l'ho adorata ma se proprio devo stare a guardare alla sceneggiatura al modo in cui tutto è raccontato secondo me l'Oscar lo daranno a Once Upon a Time in Hollywood questo è l'anno di Tarantino perché ha toccato una tematica che ha l'academy ha rappresentato Hollywood e gli Oscar sono la massima espressione della commercialità di Hollywood per cui credo che alla regia l'Oscar lo prenderà Sam Mendes è impossibile non darglielo la questione del piano sequenza è una garanzia come fu per Birdman e in parte anche per Revenant perché Revenant comunque alla fine non aveva un unico piano sequenza ma c'erano tantissimi piani sequenza e piano sequenza fa bagnare quelli dell'academy e posso anche capire perché è una tecnica che io adoro e vi dico che secondo me siccome molto spesso cercano di suddividere i premi e di non dare più miglior regia miglior film alla stessa pellicola anche se succede ancora e tanto in tanto penso che stavolta daranno miglior regia a Mendes miglior film a Tarantino per tutta una serie di motivi questo però non significa che io non abbia apprezzato la storia del film tra l'altro devo anche raccontarvi una cosa dovete sapere che quando si va ad un'anteprima stampa solitamente viene fornito ai vari spettatori un preskitt ovvero un insieme di fogli pinzati di solito sono circa una decina di pagine in cui si racconta un po' la genesi del film c'è una sinossi per dare quante più informazioni possibili ai giornalisti che poi dovranno scrivere una recensione ebbene io di preskitt voluminosi ne ho visti ma mai una cosa come questa ok è la bibbia d'accordo addirittura è talmente grande come preskitt che ha un indice è veramente qualcosa di meraviglioso infatti io di solito li butto perché comunque sono informazioni che si possono trovare tranquillamente anche su wikipedia ma in questo caso l'ho voluto ottenere non solo perché mi è stato molto utile per realizzare questo video ma perché è bello alla fine sono solo dei fogli pinzati per l'amor del cielo non sono scritti fronte e retro come potete vedere ma anche in quest'ottica è un preskitt veramente gigantesco e sinceramente io l'ho adorato anche perché vabbè qui vediamo una un riepilogo dei membri del cast George McKay e Dinchas Chapman che interpretano i soldati Scofield e Blake e e poi anche il resto del cast che è composto da attori di un certo peso ma a questo arriveremo tra poco e in questa bella bibbiona ho trovato delle informazioni molto utili ad esempio il film è stato candidato anche per i costumi e per le scenografie leggendo quello che c'è scritto nel preskitt posso capire perché al di là del fatto che costumi e scenografie sono molto curati e fondamentalmente sono rispettosi dell'epoca storica in cui il film è ambientato devo dire che il lavoro che hanno fatto è incredibile una cosa che io non sapevo è che quando si girano film riguardanti la prima guerra mondiale di solito si utilizzano caschi della seconda guerra mondiale utilizzati in altri film ambientati in quel periodo perché i caschi della prima guerra mondiale sono difficilissimi da trovare e per il film ne hanno prodotti 300 ok appositamente per il 1917 questi 300 caschi però non sono delle dimensioni reali che avevano i caschi all'epoca perché nel frattempo le persone hanno cambiato struttura fisica oggigiorno la media per altezza delle persone è maggiore rispetto a poco più di un secolo fa quindi hanno dovuto realizzare dei caschi che fossero più grandi adatti alla dimensione dei crani degli attori del 2019 e quindi anche questo il fatto che abbiano pensato questo vi fa capire la cura che hanno messo nei costumi peraltro non sono caschi di metallo ma grazie alla magia del montaggio sonoro grazie alla magia anche della macchina di come viene utilizzata la macchina da presa nel cinema il cinema è illusione ricordiamolo sono riusciti a rendere tutto molto credibile le scenografie sono fantastiche perché è un film ambientato per la gran parte nelle trincee e ricostruire le trincee non è sicuramente una cosa semplice quindi già questa è una cosa straordinaria ma la regia diventa ancora più straordinaria invece se si pensa al fatto che si tratta di un film che solo per fare le prove ha richiesto quattro mesi perché naturalmente dovendo girare una serie di lunghi piani sequenza le riprese i giorni di ripresa veri e propri non è che fossero tantissimi se ci pensate perché alla fine sono piena in sequenza di circa 10 minuti penso che saranno una quindicina in tutto il film stiamo sicuramente parlando di uno sforzo immane hanno dovuto mappare i movimenti delle macchine da presa peraltro hanno usato delle Alexa e delle F-mini che sono delle macchine da presa di ultima generazione che hanno la qualità di una normale Alexa degli ultimi modelli dell'Alexa ma sono molto più maneggevoli e questo era importantissimo peraltro se non erro è il primo film a beneficiare dell'utilizzo di questa nuova macchina da presa Mendes aveva bisogno di una macchina da presa che fosse in grado di dare una resa massima ma che fosse anche semplice da maneggiare perché è comunque un film molto movimentato ripeto si seguono i protagonisti che corrono da un punto A a un punto B sotto le bombe in mezzo a raffiche di proiettili è un film estremamente dinamico movimentato è un film di guerra e immaginatevi un film di guerra tutto girato con un piano sequenza ragazzi è una roba immersivissima infatti dura due ore piene che mi sono sembrate due minuti non ti lascio un secondo di respiro a parte l'inizio in cui ci sono momenti di stallo perché ancora la storia non ha preso il suo ritmo parlo dei primi minuti e poi dopo quello basta è una corsa continua infinita una corsa contro la morte io sono rimasto veramente allibito da come Mendes sia riuscito a creare tutto questo peraltro lui e la produttrice Pippa Harris con cui c'è un sodalizio che dura da ormai molti anni hanno preso l'idea per 1917 dalle storie che il nonno di Mendes stesso gli raccontava quando era piccolo storie dalla prima guerra mondiale scusate se ogni tanto mi tocco i capelli ma purtroppo il problema è che i bastardelli mi finiscono sul microfono e voi non sentite un cazzo lo so che è fastidioso devo trovare un modo ma è il problema che se lo metto qua non sentite un cazzo e devo metterlo per forza qua insomma devo capire un attimino come fare e no non ho voglia di legarli non mi piace legare i capelli detesto legare i capelli comunque sia non importa tra l'altro è un film estremamente crudo per essere un film di guerra è meno violento di quello che mi si era aspettato non pensate che sia qualcosa la salvata del soldato Ryan per dirne un altro però è una violenza a tratti visiva a tratti psicologica perché è un film che tra l'altro ti parla della solitudine ti parla dell'indifferenza della normalizzazione della morte violenta la normalizzazione di tutto ciò che ha a che fare con la guerra a un certo punto capisci che i personaggi sono praticamente soli hanno solo l'uno e l'altro loro due hanno stato un'amicizia che serve a non impazzire poi tutte e due hanno dei background completamente differenti io onestamente ho trovato assurdo ma molto realistico il modo in cui c'è questa indifferenza come se ormai i morti non facessero più impressione come se fosse una cosa normale come se tanto i soldati fossero solo carne da macello per raggiungere un obiettivo è effettivamente un concetto terribile che qua viene espresso in una maniera in una maniera molto cruda è questa la crudezza di cui parlavo prima è qui che ho proprio pensato mamma mia ci sono un paio di scene che mi hanno messo la pelle d'oca quindi di fatto il film è dedicato proprio al nonno di Mendes e la dedica dice a mio nonno che ci ha raccontato le storie quindi il film esiste grazie ai racconti del nonno è una rielaborazione e un altro aspetto del film che mi incuriosiva era la fotografia di Roger Dickens Dickens è un direttore della fotografia spaventoso un vero e proprio mostro che ha vinto l'Oscar per la migliore fotografia per Blade Runner 2049 ora Dickens ha fatto un lavoro incredibile perché ha usato quasi solo luci naturali essendo il film ambientato all'aperto infatti se notate è girato per lo più quando il cielo è coperto perché loro hanno dovuto scegliere di girare le scene quando il cielo era nuvoloso perché in quel modo avevano una luce che gli permetteva di avere una fotografia ottimale c'è una scena in particolare però girata con un impegno da parte della regia della truppa in generale del direttore della fotografia incredibile per cui hanno dovuto usare dei modellini per capire come fare a girarla vi dico solo Flair chi ha visto il film sa di cosa sto parlando chi non l'ha visto tenga a mente questa parola perché capirete quando inizia quella scena ma anche se vi dimenticate questa parola vi sfido a non dire che quella scena sia quella che vi ha colpito di più è impossibile è un capolavoro di fotografia motivo per cui credo che 1917 vincerà anche in quella categoria all'Oscar perché non è possibile veramente non darglielo Dickens ha fatto probabilmente il suo capolavoro bella la fotografia di Blade Runner del 1939 ma se non dovessero dargli premio per la fotografia di questo film allora vuol dire che c'è qualcosa che davvero non va perché va bene la fotografia di Joker e degli altri film che sono stati candidati ma quella di 1917 è inarrivabile non solo nella scena di cui sto parlando ma in generale per tutto il film è una fotografia che rappresenta perfettamente l'atmosfera che serviva a questo film una fotografia malinconica fredda quasi disperata esattamente come lo erano le condizioni dei soldati in guerra all'epoca peraltro è tutto ambientato durante questa primavera freddissima dove regna il gelo e la fotografia è gelida esattamente come l'ambientazione per cui davvero è un film che da un punto di vista tecnico è rasente alla perfezione parlando delle interpretazioni i due protagonisti sono stati molto bravi soprattutto quello che interpreta il soldato Blake poi ci sono anche altri attori loro due sono i protagonisti sono i due soldati che hanno una missione da compiere ma sono due ragazzi normalissimi non hanno particolari abilità semplicemente sono finiti in guerra come tanti della loro generazione all'epoca e devono fare quello che gli è stato chiesto e cercano di farlo a costo di rischiare tutto a costo di rischiare qualunque cosa per cui ho apprezzato veramente tanto il fatto che abbiano scelto due attori comunque meno male emergenti per interpretare i protagonisti e che i pezzi grossi li abbiano tenuti per ruoli molto più risicati io lo so che in tanti non vedono l'ora di vedere attori come Mark Strong oppure come Benedict Cumberbatch in azione ma vi posso dire che le star come anche Richard Madden in questo film hanno uno screen time uno screen time ovvero un tempo di comparizione in cui compaiono che non supera i 2-3 minuti sono poco più che delle comparse personaggi che però ti ricordi perché sono interpretati da attori di un certo peso ma non aspettatevi di vedere un Cumberbatch che compare per mezz'ora no sono veramente poco più che cameo e secondo me ci sta hanno scelto tutti gli attori inglesi li hanno inseriti in un contesto in cui sono perfetti però davvero non aspettatevi grandi interpretazioni perché di fatto non erano ruoli pensati per essere ricordati come grandi parti memorabili no però è un piacere comunque vederli in quel contesto io l'ho veramente apprezzato e è un film con una colonna sonora secondo me spettacolare davvero che ti prende proprio la musica che incalza nei momenti di maggiore azione c'è una scena in particolare movimentatissima che per me è un miracolo di regia c'è davvero il modo in cui la macchina la presa segue il personaggio mentre corre con quella fotografia con quella particolare ambientazione è anche una scena che poi sfocia in un effetto visivo che non mi è piaciuto infatti non so se il film vincerà l'osca per i migliori effetti visivi se come c'è di meglio in gara però comunque è tutto estremamente notevole e tra l'altro io credo che sia un film che effettivamente è un po' paraculo me l'ha fatto notare non mi ricordo chi è un po' ah si è durante la live che abbiamo fatto al Cerbero settimana scorsa ringrazio ancora il buon mister Mara per avermi invitato con Valentina Riete e Giulia credo fosse stata proprio Valentina a dire che comunque è un film che cerca di lisciare un po' i giudici dell'academy perché c'è una scena in cui c'è un personaggio femminile che ha un ruolo particolarmente importante fanno vedere che ci sono soldati indiani di colore per far vedere che comunque c'era una certa multietnicità quelle tutti quei piccoli accorgimenti per rendere il film il più politicamente corretto possibile ma fino a un certo punto io credo che comunque quando metti un impegno tale per un film del genere ci può anche stare che tu inserisca degli accorgimenti per prenderti quello che ti spetta io l'ho detto durante l'accensione di piccole donne non amo molto quando si vede troppo che un film è realizzato per ottenere premi e questo effettivamente ha fatto di tutto per essere candidato non solo agli Oscar ma anche in altre manifestazioni di un certo peso però il risultato finale è talmente perfetto e questi accorgimenti non li ho trovati fastidiosi al punto che secondo me è un film che si merita tutti i riconoscimenti che beccherà perché davvero è qualcosa di straordinario peraltro Sam Mendes è un regista che nel corso della sua carriera è sempre riuscito a far parlare di sé prima per American Beauty poi per i film su James Bond e adesso con questo quindi è un regista che tra l'altro ha le idee molto chiare con American Beauty aveva voluto realizzare un film un po' diverso dal solito con i film di James Bond ha rivitalizzato la saga e adesso ha voluto utilizzare una tecnica sicuramente difficile per stupire perché nessuno l'aveva mai fatto in un war movie nel senso che film come Nodo la gola come Birdman questa tecnica l'avevano già utilizzata ma erano film diversi in un war movie utilizzare un finto piano sequenza che duri per tutto il film è qualcosa di veramente difficile denota una certa abilità non si tratta solo dell'abilità nel maneggiare la macchina da presa ma nell'abilità di programmare tutto cioè dover seguire dei movimenti precisi con le macchine da presa non è semplice hanno nel Presky c'era scritto che ad esempio in una scena dove un personaggio correva verso questo carro la macchina da presa lo seguiva la macchina da presa ha dovuto seguire un certo percorso poi è stata presa a mano da degli operatori che l'hanno sollevata e l'hanno portata sul carro cioè non è semplice perché lì la troupe doveva correre insieme ai personaggi se voi guardate il backstage di molti film action spesso e volentieri voi vedete l'operatore che può essere regista come no è seduto sul seggiolino dove c'è la macchina da presa che segue il movimento sul binario per la carrellata e sì c'è da fare un movimento c'è da seguire un processo ma comunque è diverso dal dover correre insieme al protagonista portando la macchina presa che pesa una madonna sollevarla e fare il movimento giusto per seguire quello del protagonista ragazzi c'è un impegno anche fisico un dispendio di energie sotto ogni punto di vista in questo film che è incredibile è questo che io ho adorato nel 1917 potrà essere un film che voleva sicuramente accapararsi gli Oscar ok ma quanto cazzo di cuore ci hanno messo il cuore che ci hanno messo qui non lo vedevo da tanto tempo cioè si vedeva proprio che volevano cioè prima degli Oscar prima dei premi prima di tutto c'era un solo obiettivo raccontare una storia che coinvolgesse lo spettatore al massimo del suo potenziale ce l'hanno fatta ce l'hanno fatta io mi levo il cappello che non indosso di fronte a Sam Mendes perché ha realizzato un'opera seriamente magistrale e tutto funziona in questo film le interpretazioni la regia le musiche tutto è un film che sicuramente non è perfetto per l'amor del cielo ad esempio magari in alcuni momenti era un po' troppo evidente dove avessero operato i tagli ma ripeto io non sono uno spettatore comune non perché sono speciale ma perché questo è il mio mestiere quindi mi sono abituato nel corso degli anni a cercare di maturare uno spirito non tanto critico ma d'osservazione che mi permette magari di rendermi conto più di uno spettatore che non ha interesse a informarsi su come una cosa è stata realizzata e quindi l'ho notato di più magari io avrei avrei magari reso un pochino meno rapido il finale ok il finale mi sembra che arrivi con un po' troppa rapidità e forse avrei tolto un paio di scene che mi sembrano un filo di da scaliche ecco quello sì la scena con la ragazza che citavo prima è proprio messa lì per dare un senso a un personaggio femminile perché altrimenti si sarebbero lamentati del fatto che era un film solo maschile peraltro scusatemi ma un film di guerra mi è stata una prima guerra mondiale mi sembrerebbe anche assurdo se si attivasse una polemica riguardo il fatto che non ci sono personaggi femminili che cazzo ma hanno voluto evitare un'eventuale polemica secondo me avrebbero tranquillamente potuto sbattersi ma magari non è neanche così magari Mendels riteneva necessario avere un personaggio femminile per quella scena perché magari voleva fortemente quella scena io questo non lo so però lo percepisco leggermente come difetto perché in alcuni momenti è un po' didascalico lo ammetto ma è l'unico vero difetto del film perché comunque poi non è una cosa che dà fastidio non è una cosa che ti fa pensare oh questa cosa mi ha rovinato il film poteva essere bellissimo invece no no assolutamente no però è una cosa che io ho notato è una cosa che ho notato quindi mi sento in dovere di dirlo però al di là di questo per me è un'opera veramente sensazionale io vi consiglio di fiondarvi in sala a vederlo non appena avete il tempo di farlo perché davvero è qualcosa di grandioso fatevi questo favore peraltro io sono piuttosto convinto che sia un film che rimarrà nella memoria molti dicono sì è questo film da Oscar che magari vince anche ma che poi nessuno si ricorda come tanti film che vincono gli Oscar guardate è vero che ci sono film di quel tipo ma vi assicuro questo è un film che nella memoria rimarrà ha un paio di scene in particolare che sono spettacolari proprio per il modo in cui sono state messe in scena per cui davvero è una pellicola assolutamente da andare a guardare non ci sono cazzi che tengano va visto per forza quindi questo è quello che pensavo in maniera un po' più generica circa 1917 di Sam Mendes io vi invito a scrivere un commento qui sotto la vostra opinione se avete visto il film o anche se non l'avete visto l'importante è che nel caso in cui faceste spoiler contrassegnate il commento con la dicitura spoiler così non roviniamo il film che ancora non l'ha visto io vi abbraccio per se non tanto ma tanto ma tanto bene vi voglio veramente strizzare e abbracciare noi ci vediamo al prossimo movieblog se non avete ancora visto il film se invece il film non l'avete visto e volete sapere niente in uno specifico gli spoiler iniziano tra 3 2 1 allora come ho detto la trama non è niente di particolarmente complicato ci sono due soldati Scofy e Blake che devono attraversare il campo dove per l'appunto ci sono i nemici per avvisare questo battaglione che è stato ordinato l'attacco di non muoversi perché in realtà è una trappola dei tedeschi che li annienterebbero altrimenti e è un battaglione composto da 1600 uomini tra cui c'è anche il fratello di Scofield e questi due ragazzi devono lottare contro il tempo perché hanno poche ore per percorrere 15 chilometri ma non sono 15 chilometri che possono percorrere saltellando come se stessero andando un picnic ci sono i tedeschi pronti a farli a pezzi e una delle scene che mi ha messo più ansia quando sono nella trincea tedesca abbandonata che però è stata minata e la bomba scoppia perché un topo l'attiva e gli crolla la trincea addosso con Lee sono rimasto estasiato perché ho provato un senso di claustrofobia come se fossi con loro oppure la scena in cui Scofield viene ucciso viene ucciso per l'appunto non mi ricordo se è Scofield o Blake comunque uno dei due viene ucciso dal soldato tedesco che è precipitato con l'aereo uno dei due stava cercando di insomma di di tenerlo a bada però viene ammazzato perché questo aveva un coltello e la scena in cui muore è qualcosa di straziante davvero dura tre minuti circa e tu proprio lo vedi morire piano piano davanti ai tuoi occhi vedi la sofferenza la paura di questo ragazzo che è in stato di shock che non si rende conto di sapere morire e a un certo punto dice oh mio dio ma da dove arriva tutto questo sangue come se avessi dimenticato quello che è accaduto e chiede all'amico sto morendo e lui piangendo sommessamente gli dice di sì è una scena commovente mi ha veramente toccato nel profondo ma la scena che più mi è rimasta nella memoria è quella in cui l'altro ragazzo sopravvissuto sta andando verso il battaglione arriva in questa città che è quella designata e ha uno scontro contro questo soldato tedesco che gli spara lui cade dalle scale picchia la testa sviene quindi perde anche molto tempo perché si sveglia di notte e deve raggiungere la sua destinazione e lo deve fare in questa città in vase tedeschi dove stanno lanciando questi flare questi razzi luminosi per vedere se ci sono nemici da abbattere e la fotografia con queste ombre che si allungano è qualcosa di mostruoso giro un video sul web l'ha messo anche il buon teino dei cinefacts sulla sua pagina la pagina cinefacts che vi consiglio di seguire se siete avanti nel cinema non potete perdervela in cui si vede proprio Dickens e Mendes che hanno questo modellino della città in cui provano i movimenti della macchina da presa perché hanno dovuto calcolare esattamente quanto ogni flare poteva stare in aria a illuminare e lì è tutta luce naturale cioè è un'opera d'arte quella scena con queste cazzo di ombre che si allungano io ero così cioè è davvero è qualcosa di unico un utilizzo della luce di questo tipo è mostruoso è un cazzo di artista quell'uomo veramente mi ha dato un senso di piccolezza mi sono sentito grosso così alto un centimetro di fronte alla magnificenza di quello spettacolo mortale perché di fatto ogni ombra è la salvezza ogni fascio di luce è la morte per il soldato quindi quel momento è stato spettacolare e il momento in cui i soldati tedeschi lo vedono e lui inizia a correre con l'alba che sta per sorge il sole che sta per sorge quindi con il cielo che ancora però non è completamente illuminato dal sole quindi c'è quell'effetto un po' blu viola dell'alde neanche neanche aurora è il prima poco prima dell'aurora di lui che corre che salta con i soldati che gli sparano la macchina da presa che segue il suo movimento dal basso è una roba incredibile poi lui che vola giù dalla cascata è realizzato con un effetto che non mi ha convinto per niente però ragazzi porca di quella vacca che cazzo di roba io ve lo giuro ero allucinato dalla bellezza del momento poi c'è poco prima il momento in cui lui entra in questa cantina per evitare che lo scoprano inizia a parlare con questa ragazza francese lui non sa la lingua e di fatto lo vediamo per l'appunto che dà da mangiare alla bambina che lei ha trovato aveva la borraccia con latte quindi le dà il latte sembra quasi che debba nascere qualcosa tra i due ma poi no e anche il momento in cui lui va dal plotone e scopre che stanno già attaccando quindi va in trincea per fermare l'attacco c'è il momento in cui lui per arrivare per raggiungere la stanza dove c'è il colonnello deve entrare per un attimo nel campo aperto dove stanno combattendo schivando le pallottole per raggiungere il luogo designato ecco quella scena anche lì è pazzesca perché c'è lui che inizia a correre con la macchina da presa che si sposta e ti mostra la vastità di questo campo di battaglia con lui piccolissimo che corre e la devastazione alle sue spalle e tutto quello che c'è in quel punto lo vuole uccidere è è bellissima come scena ma mi ha colpito anche la scena iniziale con loro due inquadrati frontalmente che iniziano a camminare verso la macchina da presa che nel frattempo però si allontana all'indietro e mano a mano che loro camminano la macchina da presa cioè diciamo che il campo e la trincea si allargano e ci compaiono noi non li vediamo subito compaiono man mano che i personaggi vanno verso di noi ed è bellissimo perché è come se l'ambientazione si scopra poco a poco è stato un momento anche quello fin dall'inizio che mi ha fatto pensare wow non era un momento di battaglia non era una scena movimentata ma proprio con questa semplice tecnica di ripresa piano piano il mondo in cui il film è inventato si palesa ai tuoi occhi io da spettatore quando ho finito di vedere il film mi sono reso conto che ero entrato alle 6 e mezza ed erano le 8 e mezza ho pensato ma che davvero ma come cazzo è possibile ma quando quando minchia sono passate queste due ore perché poi avviene quasi del tutto in tempo reale c'è solo quello stacco tra quando lui cade giù dalle scale e quando di fatto si rialza ok però è pazzesco e già qua l'idea del piano sequenza è un filino intaccata perché per l'appunto sono passate le ore quindi non è totalmente in tempo reale quindi uno stacco c'è stato però noi non lo vediamo da un punto di vista proprio della visibilità anche in Birdman c'era questa cosa la macchina presa non sembra staccare sembra che ci sia un timelapse però in realtà ha staccato perché è ambientato in due momenti diversi però di fatto è così quindi ho trovato incredibile tutto di questo film mi è piaciuto Camberbatch per quanto compagna poco come anche Mark Strong Richard Madden insomma è un film composto come Dio comanda la scena in cui il povero Scofield deve scendere giù dal carro e andare in città con lui che viene sparato sulla spaletta del ponte e scrive proiettili per miracolo insomma quella scena lì è veramente pazzesca anche quella ed è un film che parla dell'assurdità della guerra persone che combattono per un obiettivo che forse non vedranno mai realizzato perché moriranno prima carne e ramacello mandate allo sbaraglio per raggiungere uno scopo come se l'individualità non esiste cioè come se la collettività non esistesse mi mi ha colpito tanto il fatto di vedere l'indifferenza l'indifferenza nei confronti dei mutilati dei morti come se tanto ormai fosse una cosa normale la normalizzazione della morte violenta la normalizzazione dell'orrore della guerra è questo che mi ha colpito è un film sporco un film crudo e crudele mi ha veramente ammazzato da quel punto di vista quindi è davvero una pellicola che consiglio a chiunque sono rimasto colpito sotto tutti i punti di vista davvero è splendido veramente veramente e non ci sono molti altri aggettivi che riesco ad usare perché comunque anche la scena in cui lui arriva al protone nel bosco e si lascia cadere contro l'albero quasi in stato catatonico perché ormai è distrutto cioè ha dovuto passare l'inferno letteralmente per arrivare lì dove è e sta quasi per mollare però deve trovare il battaglione Devon deve trovare il Devon e quando dice devo trovare il Devon e un soldato dice così detto il Devon ma siamo noi il Devon lui proprio non ci può credere dice cazzo sono arrivato ma non è ancora finita quando capisce che rischierà ancora di morire nonostante sia lì perché il colonnello non lo vuole ascoltare vedi proprio lo sconforto di questo ragazzo ma poi dice no devo farlo non solo per evitare che muoiono tutte queste persone ma per non rendere vano il sacrificio dell'unico amico che avevo in questa guerra per cui è un film che parla anche di questo parla d'amicizia parla della solitudine è davvero davvero di una profondità incredibile quindi questo è quello che pensavo circa 1917 di Sam Mendes io vi abbraccio ancora grazie a voi se tanto va tanto va tanto bene e noi ci vediamo al prossimo muoio vlog ciao a tutti